Ma vaffan... Ma che caso? Ah, che sfigato! Ha fatto il ballo del perdente e il tipo da dietro l'ha ucciso. Che sfigato, Dio! E una volta luttato Pinnacoli cosa si fa? Tipo, non ero mai arrivato fino a questo punto. Allora, ti voglio proporre una cosa fantastica. Facciamo un game, anzi due. Facciamo due game. Due game. Chi fa meno kill in totale shop una skin all'altro. Che dici? Che sono povero per ste robe. Perché sai di perdere. No, allora, chi fa meno kill in che senso? Nel totale delle due partite? Sì. Ok, quindi due partite. Chi fa più kill in queste due partite non shoppa la skin. Invece chi ne fa di meno? Esatto. Chi ne fa di meno shoppa la skin all'altro. Mi sa che mi toccherà ricaricarti il conto allora, sì. Beh, non è detto. Adesso vediamo. No, vabbè, comunque va bene, va bene. GG. Io devo imparare ad atterrare ancora più in fretta. Cioè, gioco questo gioco da quando è uscito, ma... Ce n'è uno qui. È sicuro sotto questo. Oh, sì, grazie. Stippare le kill non vale, ce l'ho dito. Non c'era... Non l'hai detto all'inizio. Non erano impatti. Ah, quindi dice che non vale stillare le kill. Madonna, raga. Madonna, mi devo riprendere. Allora, tieni, tienilo scendino. Tieni lo scendino. Ma è nabissimo quello. Cosa ne pensi delle doppie pistole? Fanno schifo! Va bene. Ok. Ok. Va bene. Ok. È morto subito? Non ho proprio un altro in fondo lì, a Nord Windy, ci vedi? E invece tu sei per lo Scar H o per la K? Scar tutta la vita. All night long. A K tutta la vita, all night long. No, non c'è nei colpi, mi nervosisce. Ah, c'è il pompa quello grosso. Allora, prendi te. Quale pompa? Io la muovero. C'è, capisci. Vabbè, non avremo pure e creperemo, perché oggi non si è fatto gli scivini. Va bene, va bene, va bene. Adesso vado a prendere i medici e ti vediamo. Bravo, vai! E se tu muori per tre di vita, te lo dico io. Adesso vedremo proprio. Hai mattoni? No, ma chi è che li chiama mattoni? Pietra? Mattoni! Mattoni? Ma sono palesemente mattoni! Hai lamine d'acciaio! Cosa? C'è un cespuglio messo in una posizione stranissima. Nel dubbio spara. No, 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 ma sono sicuro che non è un player. Questo, questo sotto di me. Ah, minchia! Sì, non può essere un player. Non è che non ti è lo speso nell'aria. Allora, eccoli, eccoli là, eccoli là. Atterra uno. Ok, dove cazzo stanno sti qua? Acqua. Ah, mi sa che qua dovrei tirare fuori il portafoglio. Te lo dico. Eh, intanto qua te l'ho stilata male. Siamo uno a uno. Come stilata? Ah, l'hai stilata! Ma che vuoi? È il mio compo, quello! Eh, mi dispiace! No, 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 esci subito il compo. Ah, me l'hai stilata, quello! Ci pushano con la moto. Ah, chi è noi? Eh, sì. Guarda lì. Dietro, dietro. Vieni qua, un rift, un rift. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. È uno, è uno. Ah, ok. È uno della season 2. Ma è nabbo. Ma diamine a te. Volevi! Eh, siamo quanto? 4 a 4? Sì. Signori! Pareggio! Le cose si fanno sempre più interessanti. Non li vuoi proprio, sti medici? No, mi fanno proprio schifo. È meglio le fenditure. Coprimi, 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 coprimi! Oh, mio Dio. Ora mi serviranno quei medici, tu guarda qui. Vedi? Ma sto laggando! Ah, ho mille di ping, ora capisco. Fermo. Dentro la casa, dentro la casa. Dentro la casa. Porca broia. Addio. Da che te li fai? Mi dispiace, ma per te è finita. Ma l'hai visto dove era messo questo? Era campionato lì, il campionato che trovi te! Che noccio. Che curo. No, io sono un bravo giocatore. Dietro, 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 dietro! Addio, addio, amici, addio. Eh, però no, aspetta. Oh sì, buonanè è morto. Porca, quel tipo ha sculato, c'è... Ma diamine! Addio, addio, amici, addio. Beh, comunque... Mi dobbiamo lasciare! Che è sto coreano? Perché è nei server italiani? Ma vaffan... Ma che caso... Ah, che sfigato! Ha fatto il ballo del perdente e il tipo da dietro l'ha ucciso. Che sfigato, oddio! Ma perché nei regali ci sono solo i quad launcher? C'è, eh... Hai uno scigli di, no? Assolutamente no. Voglio quel barrette! Subito lo voglio! Subito, voglio questo barrette! Ti apro la strada? Ho fatto 84 di danno o uno? Non sto capendo niente! Mi ho scelto uno? Accidenti a lui! Noccato un altro? Morti? Buono! Ma chi è questa, tu? A terra! Ops! Ops, ma sei morto forse? Ah, sì! Ops, un altro morto? Eh, ma allora oggi siete tutti morti, a quanto pare. Nice! Va, ho fatto 5 kill. Sì, mi serve una R, però, perché quello che lo fa schifo. Bolt action, se ti serve. Oh, il barrette! E allora sei meglio te! E una volta lootato Pinnacoli, cosa si fa? Tipo, non ero mai arrivato fino a questo punto! Eh, nemici! È a 70 ora! A 70, a 70, a 70! 50, non ha scudo. Ha morizzato qua sopra! Ok, è morto. Guarda quanta roba! Ho un regalo per te! Oh, grazie! Cos'hai... Perché mi dai questa cosa? Cos'hai buttato? Eh, no, perché ho appena preso la kappa. Qua ci sono robe? Sì, il... Tu hai la... Tu hai la... Tu hai la... No, tu hai la jump. Hai i grappoli, eh? La jump, sì, ne ho tre. Sì, sì. Me ne dai una. Sì. No, cosa fai? Cosa fai? Per favore, che cosa hai combinato? Ho fatto un movimento! Sei un pessimo guidatore e io ho paura di stare qua dietro, te lo dico. No, 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 no! Hai preso danni? Per caso no, è allora zitta. Però, te è muto oggi. Eh, nemici, nemici, in mezzo al fiume, dove c'è il ponte? Cento di danno. C'è gente a sud-est. Oh, qui ce n'è uno qua sopra. Ma è morto. Lo push. No, 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 che è morto. No, è morto il tipo... Ok, lo vedo. Copriti, copriti, copriti. Qua, ma dai, tranquilli. Spiuti il chug. Ti odio. Ma stai zitta che uno me l'hai rubato. Oh, nemici. 50 di danno. 50 di danno. 100 di danno. A terra. Pizziamo questi, ottimo, non esagerare. Pizziamo questi. No, non te l'ho confermato, te lo volevo confermare. Ok, ucciso. 50 di danno. Mi arrivano ciocchino. Abbiamo uno sotto. Possiamo fare rettore. Ma quello sotto si sta nascondendo, chi se ne frega. Ma muori. Cheat. Ignoralo, cheat. Ah, c'è il chug ancora lì. Eccoli là. Vado dietro io. Sono qua. Li hai visti? Sì, sì. No, non ho visto una. Ma. Morto l'ultimo? 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 È one? Dai, ho fatto 7 kill. L'ultimo? No, anzi, 8. 8 con l'ultimo. Prendi l'altezza, prendi l'altezza, prendi l'altezza. Che mi ha one pump out. Non ci credo a sciarli. Fermo, tirati gli sciglini, fermo. No, perché ha le scale lui qua. È leva, che fai di giù. Ma sono mie. Dai, dai! No. E vabbè, alla fine, purtroppo, siamo pari. Quindi non avevamo previsto niente per il pareggio. Questa è un'intenzione, esatto. E quindi, niente. Anche perché non mi piace nessuna skin nello shop di oggi, sinceramente. Quindi, in ogni caso, non vorrei proprio nulla. Cioè, la skin dark è anche carina, però con i capelli lunghi sarebbe stata bella, così no? Sì. Ok. A te piace qualcosa? Sicuramente assassino aerobico è quella che piace a te. No, che orrore! Arriviamo a 5.000 like se volete vedere il continuo di questa serie. 5.000 like. Ma chi se ne frega, lo so che non ce la faremo mai, ma chi se ne frega, non importa. Ma chi se ne frega di meno? No. Vabbè, ok. 5.000. E stai buona tu, è il mio canale questo. Arriviamo a 5.000 like e facciamo il proseguio. Facciamo l'uno di uno, io contro Opti. Va bene, va bene, va bene. Una 1v1. Va bene, vedremo. Allora, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, va bene. Allora, va bene, va bene.